sia lodato gesù cristo benvenuti fratelli e sorelle leggiamo un messaggio di nostro signore gesù cristo e del suo angelo custode a valentina papagna questa mistica dell'australia della città di sidney del 25 settembre 2024 il sacrilegio e l'abuso della santa eucaristia allora richiamiamo in noi lo spirito santo per leggere questo messaggio mentre recitavo le mie preghiere mattutine l'angelo mi apparso ha detto oggi nostro signore vuole che tu sia testimone di ciò che accade alla santa eucaristia all'improvviso l'angelo e io ci siamo ritrovati in un edificio al centro di questo edificio c'era una grande scatola quadrata larga circa un metro e alta mezzo metro l'angelo mi ha quindi condotto verso la scatola per farmi vedere cosa c'era dentro sono rimasta stupita quando ho guardato dentro la scatola era piena di ostie sacre che riceviamo durante la distribuzione della santa comunione durante la santa messa ho detto all'angelo wow non ho mai visto così tante ostie sacre sfamerebbero quasi il mondo intero disse allora l'angelo ora osserva attentamente guarda cosa gli fanno all'improvviso apparve un sacerdote che teneva in mano un contenitore metallico rotondo senza alcuna riverenza iniziò ad afferrare le ostie e a riempire il contenitore dopo il prete arrivò un'altra persona che teneva anch'essa un piatto poi iniziò a riempire il suo piatto con le ostie sacre nello stesso modo il riverente del prete mentre io e l'angelo stavamo lì a guardare dietro di me alla mia destra una porta si aprì all'improvviso un uomo entrò dalla porta tenendo in mano un sacchetto di carta marrone pieno di sante eucalistie andò direttamente alla scatola e rovesciò il sacchetto di carta marrone svuotando tutte le ostie nella scatola l'angelo disse tanto sacrileggio nel santo corpo del nostro signore gesù l'angelo spiego poi il significato dell'azione dell'uomo che svuotò le ostie dal sacchetto di carta marrone disse queste sono le persone che rifiutano e deridono la santa eucalistia e le grazie vengono restituite alla scatola queste persone sono impertinenti guardate quanto abuso e sacrileggio viene fatto il nostro signore gesù cristo nella santa eucalistia nelle chiese ciò offende molto il signore gesù valentina consola il nostro signore gesù per tutti gli abusi e sacrileggi che riceve durante la distribuzione della santa comunione di alla gente di pentirsi nostro signore si rammarica molto del fatto che i vescovi e sacerdoti non insegnano la santità della ricezione della santa eucalistia signore abbi pietà di noi sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria in uno dei prossimi video porteremo questo insegnamento attraverso questo canale youtube della del modo in cui bisogna comportarsi dopo aver ricevuto la santa eucalistia e quindi in chiesa faremo questo breve video alla fine della santa messa quando rimarremo un po soli anche nella mia parrocchia accade questo infatti il sacerdote quando deve amministrare il corpo di gesù chiama questo laico questo questa invenzione della massoneria ecclesiastica il ministro straordinario dell'eucalistia l'eucalistia va toccata solo dal sacerdote e quindi ci sono questi laici che amministrano in modo in debito il corpo di gesù diventando dei sacerdoti e dando l'eucalistia alle persone sbagliatissimo solo il sacerdote può toccare le eucalistie solo il sacerdote seppur fossero un miliardo di persone solo il sacerdote deve dare l'eucalistia se non ce la fa si fa aiutare ad altri sacerdoti ma non esiste che un laico si mette lì con il calice e con le sue mani a dare l'eucalistia nelle mani ad altre persone questo è una bestemmia grandissima contro la santissima verità ecco che allora siamo chiamati a riparare questi sacrilegi siamo chiamati poi come gesù insegna lui sapi carretta una volta che riceviamo la santa eucalistia dobbiamo rimanere un po più seduti dopo la messa e parlare con gesù nel nostro cuore poiché gesù una volta che attraverso la santa eucalistia cioè il suo corpo entra dentro di noi attende che noi gli parliamo invece la maggior parte delle messe finisce le persone nessuno insegna cioè quindi i sacerdoti vescovi non insegnano le persone che dovrebbero parlare con gesù nel proprio cuore dopo che ricevono l'eucalistia e invece le persone finita la chiesa scappano si svincolano quelli che rimangono rimangono lì dando le spalle all'altare a farsi i propri fatti parlano con altre persone ridono scherzano e gesù è lì che attende che gli diciamo qualcosa ecco gesù rimane prigioniero dei nostri cuori attraverso la santa eucalistia lui bussa nel nostro cuore e noi ci facciamo beffa di lui e quindi gli uomini di scienza oltraggiano la fede gli uomini di chiesa bestemmiano contro lo spirito santo quindi preghiamo e ripariamo per queste offese e cerchiamo di dedicare anche noi del tempo a gesù dopo che lo abbiamo ricevuto nel nostro cuore attraverso la santa eucalistia io lo dato gesù cristo il cielo attraverso profeti e mistici ci avvisa dell'urgenza di aver informato stampa i libri delle rivelazioni mariane per ricordarci quando non avremo internet e la tecnologia a causa della guerra dell'anticristo degli eventi e profizie che si compiranno oltre alle preghiere sacramentali che ci occorrono adesso prima che siano impossibili da trovare in descrizione troverete il link per accedere ai miei libri